ciao a tutti eccomi anche oggi sono paolo e vi do il benvenuto a un nuovo episodio dell'italiano in podcast oggi è martedì è il 12 gennaio del 2021 la settimana continua e siamo arrivati alla puntata numero 109 di questo podcast e come ogni giorno vi faccio compagnia qualche minuto parliamo un po in italiano e vediamo se riuscite a capirmi e se riuscite a imparare anche qualche nuovo vocabolo da questo mio piccolo monologo per chiudere la mia giornata di solito è l'ultima cosa che faccio e anche questa sera è così non avevo molti impegni oggi durante la giornata ma nonostante questo ho fatto tardi abbastanza tardi qui adesso devo dire la verità sono un po stanco non so bene perché perché non ho fatto molte cose oggi però sì sono stanco forse perché ieri sono andato a dormire molto tardi alle due e mezza circa quindi questa mattina mi sono svegliato alle 7 e 30 quindi non ho non ho dormito molto e adesso mi sento un po stanco ho sonno avere sonno significa avere voglia di dormire ma prima devo fare il mio podcast prima devo raccontarvi qualcosa della giornata altrimenti non potrei addormentarmi e quindi cominciamo dal fatto che oggi è stata una bella giornata finalmente per tutta la giornata ieri c'è stato il sole durante la mattina ma nel pomeriggio però è piovuto e il tempo si è guastato di nuovo cioè è peggiorato di nuovo ma oggi invece no oggi è stata una bella giornata dal mattino fino alla sera quindi questa mattina sono uscito per una bella passeggiata con anche la mia bella colazione molto presto come ho detto ma poi ho fatto una lezione ma questa volta non una lezione come tutor ma come studente il martedì di solito alle 8 circa del mattino ho la mia lezione di inglese con la mia tutor e anche oggi è stata molto interessante molto piacevole e credo che il mio inglese cominci davvero a migliorare mi sembra di aver fatto una buona lezione oggi ero abbastanza rilassato e credo di non aver fatto molti errori ma devo devo chiedere meglio la prossima settimana alla mia lezione tutor perché la conversazione era molto interessante quindi non abbiamo quasi fatto pause nella conversazione e non mi ha corretto molte volte ma non so se non mi ha corretto perché la conversazione era molto interessante o perché davvero ho fatto pochi errori la prossima settimana glielo chiederò però quindi dicevo che è stata una lezione piacevole anche oggi mi trovo molto bene con la mia tutor quindi è sempre stimolante e quindi mi sembra davvero che le lezioni funzionino che il mio inglese stia diventando migliore dopo questa questa lezione ho fatto alcune cose alcune piccole pratiche burocratiche ho pagato le bollette questo è stato l'impegno prima di un'altra lezione questa volta come tutor con una persona molto simpatica e poi nella mattinata diciamo che ho concluso la spesa settimanale mi piace farla al martedì non so perché ma in genere il martedì è il mio giorno preferito prima del pranzo diciamo verso le 12 e 30 vado nel mio negozio quello sotto sotto casa mia praticamente e faccio la spesa in modo tranquillo non c'è mai fila non ci sono troppe persone a quell'ora posso fare le cose con calma e anche quando arrivo al banco dei formaggi dei salumi dove è necessario prendere un numero di solito per essere serviti il famoso numeretto anche qui non trovo quasi mai fila e questa è la cosa che mi piace di più io non amo fare la fila questo per un italiano è normale non amare fare la fila ma in particolare al al banco dei salumi dei formaggi non non mi piace stare in fila primo perché è un po stretto e secondo anche perché mi tocca sentire cioè devo sono costretto a sentire discorsi mentre aspetto e che non trovo molto interessanti ma un po noiosi quindi non mi piace stare in fila in questo posto per fortuna poi le commesse sono bravissime e quindi mi fido molto di loro ed è di solito è molto veloce comprare le cose di cui ho bisogno quando arriva il mio turno ma quando devo aspettare però non mi piace molto quindi la mattina è andata avanti così e non c'è stato nient'altro quindi le lezioni la colazione e poi la spesa settimanale nel pomeriggio ho deciso però di fare una bella e lunga passeggiata se c'è una cosa che mi piace di queste giornate e sono poche le cose che mi piacciono perché c'è un'epidemia perché è piovuto per 15 o 20 giorni senza pausa ma se c'è una cosa che mi piace essere sempre vestito molto comodo con una tuta di solito una delle mie tante tute e avere sempre questa velocità nell'essere pronto per uscire e godermi una passeggiata all'aperto sempre vestito molto comodo senza la necessità di andare in ufficio quindi vestirsi in un modo un po meno comodo insomma quindi quando sono a casa il mio indumento preferito è la tuta quindi è un attimo vedo del sole mi viene voglia di uscire e sono già pronto per una passeggiata molto comoda con le scarpe da ginnastica la tuta senza senza sentirmi come dire scomodo con i miei vestiti per passeggiare in modo rilassato quindi nel pomeriggio come dicevo sono sono stato sul lungomare della mia città ho fatto una bella e lunga passeggiata di un'ora più o meno c'è molta gente questo mi piace non credevo che ci fosse così tanta gente sul lungomare di giorno questo è sicuramente l'effetto del covid della quarantena molte persone possono lavorare da casa e hanno più flessibilità e quindi hanno questa possibilità di fare una pausa durante il giorno e uscire per godersi un po una bella passeggiata lungo il mare per esempio purtroppo forse tra queste persone ci sono molti che non lavorano in realtà perché fanno dei lavori o lavorano in aziende che non possono aprire quindi forse anche questo è un motivo per questo diciamo per questo numero insolito di persone che passeggia nel pomeriggio sul lungomare non lo so però in ogni caso mi sembra una cosa piacevole e tutti dovremmo farlo più spesso una bella passeggiata all'aria aperta è qualcosa di rilassante che fa sicuramente bene alla salute quindi al rientro poi dalla passeggiata ho ricominciato un po a lavorare ma in realtà ho fatto solo un'unica lezione come tutor volevo lavorare a un nuovo contenuto per il blog ma ho deciso di rimandare a domani se domani avrò del tempo per fare questo e probabilmente creerò qualcosa di nuovo per il mio blog ma intanto oggi pomeriggio ho preferito riposare e guardare un film che conosco già che avevo già visto perché si era un po di tempo che volevo rivedere questa pellicola avevo intenzione insomma di riguardare il film perché è da molto tempo che non lo che non lo vedevo e avevo sì una curiosità avevo visto un articolo su questo film nei giorni scorsi e mi era tornata la curiosità di vedere il film un'altra volta si tratta di un film americano del cinema americano molto molto famoso molto molto popolare che ho rivisto con molto piacere quindi pomeriggio rilassato a guardare il film poi un'ultima lezione per questa giornata no in realtà la penultima scusate non l'ultima ce n'è stata un'altra nella tarda serata ma era un po più corta è molto piacevole anche quella quindi dicevo una lezione ancora nel pomeriggio nel tardo pomeriggio e poi verso le otto sono uscito per comprare qualcosa da mangiare da sport sono stato in una rosticceria ho preso un paio di arancini qualche pezzo di pizza e ho cenato questa sera ho bevuto anche una birra non è una cosa che faccio spesso ma quando mangio cose come la pizza o arancini cose di rosticceria mi piace bere una birra sì non non sempre ma alcune volte sì e e poi sono arrivato alla sera con quest'ultima lezione di cui vi ho detto di soli 30 minuti in realtà e adesso il podcast l'ultima fatica della giornata ma non è una fatica in realtà perché è piacevole chiacchierare con voi anzi per voi perché chiacchiero da solo in realtà ma parlo a voi però spero che siate sempre di più ad ascoltarmi in questi giorni ho visto un po i numeri mi sembra che la tendenza è ancora all'aumento lento lento ma il podcast piano piano diventa un po più popolare sono molto contento di questo e spero che ci siano sempre più ascoltatori a sentire questi miei monologhi in tarda serata spero di non sembrare un po un pazzo quando dico certe cose ma intanto continuiamo ad andare avanti continuo ad andare ad andare avanti quindi tutta qui la mia giornata domani spero di poter andare a correre volevo approfittare oggi ma ho preferito far riposare le mie gambe un altro giorno e fare quindi almeno tre giorni di riposo dall'ultima corsa quella di domenica quindi la giornata la mia giornata è stata un po questa spero che il vostro martedì sia stato più interessante anche se in fondo devo dire che non mi è dispiaciuto è stata una giornata tranquilla senza stress quindi mi va bene così va molto bene così per l'italia invece lo stress è sempre lo stesso e cioè quello del covid-19 come sempre vi do qualche cifra vi do qualche numero sulla situazione del contagio oggi in tutta italia abbiamo avuto 14.242 persone positive al test del coronavirus le vittime le persone morte sono purtroppo 616 ancora tante e siamo arrivati ormai a 80.000 morti quasi manca poco purtroppo quindi la situazione è stabile non è ancora sicura ma è come ho detto ieri viviamo in una fase molto stabile nel senso che ci sono poche variazioni quindi la situazione è chiara insomma siamo ancora in piena epidemia e quindi tutto quello tutte le regole previste nel passato probabilmente continueranno ad esistere per esempio è stato chiesto di prorogare la scadenza cioè quindi di prorogare questo periodo di stato di emergenza fino al 31 luglio quindi è stato chiesto di continuare a mantenere questa condizione di emergenza fino a luglio e non sospendere questa questa decisione la regione che ha fatto registrare più problemi è l'Abruzzo oggi in cui ci sono delle possibili varianti del virus ci sono almeno dei casi in cui forse si tratta di una variazione del virus che conosciamo gli esperti sono ovviamente al lavoro per cercare di capire di più e speriamo di avere più informazioni nel futuro vi ho dato i numeri del contagio vi do i numeri buoni quelli belli in Italia siamo arrivati a 791.734 persone vaccinate e questa è una buona notizia così come è buona la notizia dell'arrivo delle prime 47.000 dosi di vaccino di Moderna quindi quest'altro vaccino è arrivato oggi in Italia e queste dosi sono destinate a alcune regioni che hanno un tasso più alto di abitanti con un'età maggiore di 80 anni il tasso è come la percentuale quindi le regioni che hanno una percentuale più alta di persone sopra gli 80 anni riceveranno per prime queste dosi di vaccino di Moderna la situazione quindi sembra molto buona per quanto riguarda il discorso vaccini e speriamo che tutto questo processo continui in modo più veloce possibile nel modo più veloce possibile è veloce si sviluppa la crisi di governo ho usato l'espressione crisi di governo anche se non è in realtà così perché non c'è ufficialmente una crisi di governo però per me ormai è come se fosse così per me è evidente che fra poco appena sistemata la questione del recovery fund probabilmente il governo entrerà in crisi quindi ci sarà una crisi di governo uno dei partiti Italia Viva che sostiene il premier Giuseppe Conte probabilmente smetterà di farlo Renzi che è il leader di questo partito Italia Viva sembra sia ormai deciso ad andare fino in fondo a questa sua minaccia di togliere l'appoggio al governo la situazione è sempre più tesa sempre più difficile e quindi probabilmente nelle prossime settimane nei prossimi giorni potrebbe verificarsi questo evento cioè quello di un cambio nel governo potrebbe essere necessaria la formazione di un nuovo governo vedremo vedremo nei prossimi giorni vedremo se davvero ci sono persone intenzionate a creare delle crisi in un momento così delicato c'è invece chi in questo momento così delicato pensa sia ragionevole appoggiare alcuni movimenti dei ristoratori italiani il ristoratore è la persona che ha un ristorante che ha un bar sono quelle persone che offrono dei servizi di questo tipo diciamo quindi ci sarà nei prossimi giorni una specie di protesta di una parte ovviamente dei ristoratori quindi di una parte i proprietari di bar ristoranti luoghi in cui è possibile consumare del cibo di solito queste persone vogliono aprire contro le regole quindi aprire senza il permesso vogliono pagare la multa ma fare questa operazione come dire per protestare come una forma di protesta beh Salvini ha sposato un po' questa causa cioè diciamo che ha deciso di appoggiare l'iniziativa di queste persone o almeno è quello che i giornali scrivono forse non appoggia questa questa protesta così estrema ma sicuramente appoggia questo movimento speriamo che non sia solo per interessi elettorali ma che sia davvero una una sua condivisione insomma di questo punto di vista che però mi sembra un po' pericolosa perché sapete tutti che abbiamo delle regole per questo per ristoranti per i bar e quindi appoggiare un movimento che vuole aprire lo stesso anche contro le leggi non mi sembra davvero una bella idea in questo momento qualcuno dice che è un po' un modo di incitare cioè di spingere le persone a fare qualcosa di non legale ma ovviamente ognuno ha la sua opinione vedremo cosa succederà nei prossimi giorni e se ci possono essere delle gravi violazioni della legge in queste iniziative penso che non sia una buona idea ma è difficile la situazione di queste persone ed è comprensibile un po' di nervosismo e di tensione con le notizie che è un po' tutto qui per oggi quindi penso che possiamo passare alle nostre piccole rubriche per chiudere il nostro appuntamento ancora una volta ho superato i 20 minuti ma questa volta faccio presto con le rubriche finali non ci sono compleanni di personaggi famosi così importanti però c'è una ricorrenza importante perché in questo giorno è stata come dire approvata sì possiamo dire che è stata approvata la costituzione dell'Europa unita quindi la costituzione europea nel 2005 quindi 16 anni fa l'Europarlamento ha approvato la costituzione questo è un avvenimento ovviamente importante ma dopo questo è stato necessario chiedere ai cittadini di ogni stato di quasi ogni stato il loro parere attraverso dei referendum sicuramente però questo momento è stato importante perché per la prima volta l'Europa unita aveva una costituzione comune e dopo questo questa piccola curiosità della storia europea passiamo invece all'aforisma del giorno la frase famosa dell'italiano famoso oggi ho scelto questa breve frase la curiosità è il motore del mondo invito a scoprire l'autore come sempre questa frase l'avete sentita moltissime volte forse 109 volte e con questa frase vi lascio vi lascio alla vostra giornata vi auguro una buona settimana ancora di continuare ad avere una buona settimana vi do l'appuntamento a domani con l'italiano in podcast quindi ci vediamo ci sentiamo presto un saluto a tutti voi ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti Grazie a tutti.